Eccoci qua per un nuovo episodio insieme. Ciao e benvenuta in Cosmic Guide, la mia rubrica astrologica per risvegliare la tua divina essenza come guida per te stessa e per gli altri. Se non mi conosci ancora, io sono Jessica e mi definisco una Divine Manifestor. Ti guiderò in questo viaggio multidimensionale dove uniremo astrologia, manifestazione e maestria cosmica per rendere la spiritualità una pratica concreta e l'energia universale il tuo canale di manifestazione e crescita sia personale che imprenditoriale. Siamo nel pieno dell'energia del sole che da questa sera entra nel segno dei gemelli e dopo aver approfondito questo tema nell'episodio precedente possiamo osservare come influirà in ciascun segno. Potrebbe esserti utile, questo lo ripeto sempre, osservare non solo il segno ma anche la nostra luna e il nostro ascendente che troviamo nel tema natale. Puoi chiedermi una lettura dettagliata del tuo tema natale andando sul mio sito, ma intanto andiamo ad approfondire queste informazioni di carattere collettivo. Andiamo a vedere come ciascun segno potrebbe percepire questo sole in gemelli partendo proprio dal segno dell'ariete. Questo ariete percepisce il sole in gemelli come un periodo di comunicazione e di socializzazione che vanno ad intensificarsi. Potrebbe sentirsi più motivato ad esplorare nuove idee e anche a connettersi con gli altri attraverso delle conversazioni stimolanti. Mentre invece il segno del toro potrebbe percepire il sole in gemelli come un momento di movimento e anche cambiamento. Dalla stabilità del toro potrebbe appunto sentirsi più spinta a espandere le proprie conoscenze e a cercare nuove esperienze che alimentino la propria curiosità. E adesso andiamo al segno dei gemelli che appunto percepisce questo sole nel pieno della sua potenza. È un momento di grande energia e vitalità che vanno a rinnovarsi. Il gemelli si sente più in sintonia con se stessa e potrebbe essere anche più incline a esprimere la propria individualità in modo più audace e assertivo. Passando invece al segno del cancro possiamo vedere che questo sole in gemelli potrebbe percepirlo come un periodo di riflessione e introspezione. Potrebbe sentirsi più incline a dedicare del tempo alla contemplazione e anche ad esplorare il proprio mondo interiore. Lo facciamo in modo come dire abbastanza dinamico se vogliamo. E adesso andiamo a vedere il leone come percepisce questo sole in gemelli. Vediamo che questa per tutte le nostre leonine lì fuori potrebbe essere un'opportunità per ampliare la propria cerchia sociale e connettersi anche con gli altri. Potrebbe sentirsi più motivata a mettersi in mostra e condividere le proprie idee con il mondo. Passando invece al segno della vergine vediamo che questo sole in gemelli potrebbe essere percepito come un periodo di crescita personale ma anche di grande sviluppo. Potrebbe essere più incline a cercare nuove conoscenze e anche impegnarsi in attività che vanno a favorire la sua crescita e il suo apprendimento. Passando invece al segno della bilancia potremmo vedere che questo sole in gemelli sarà un grande momento di attività mentale e anche come dire abbastanza intensificata. Potrebbe sentirsi più incline a comunicare apertamente con gli altri e a cercare di comprendere diverse prospettive questa volta mantenendo un po' di più il suo equilibrio interiore. Passando invece al segno dello scorpione vediamo che questo sole in gemelli potrebbe essere percepito come un'opportunità per esplorare le proprie emozioni e le proprie relazioni. Potrebbe sentirsi più incline a esprimere i propri sentimenti in modo aperto e anche a cercare delle connessioni significative con gli altri. Passando invece al segno del sagittario potrebbe percepire questo sole in gemelli come un periodo di esplorazione e avventura. Potrebbe sentirsi più motivata a cercare delle nuove esperienze e anche a viaggiare per ampliare i propri orizzonti mentali e spirituali. Il segno del capricorno invece potrebbe percepire questo sole in gemelli come un'opportunità per concentrarsi sulle proprie ambizioni e obiettivi di carriera. Quindi potrebbe sentirsi più determinata per seguire il successo e a comunicare in modo efficace le proprie idee a chi appunto lavora con le nostre capricorno qui fuori. Passando invece al segno dell'acquario vediamo che potrebbe percepire questo sole in gemelli come un momento di crescita sociale e personale. Potrebbe sentirsi più incline a connettersi con la comunità e anche ad esplorare nuove idee che alimentino il proprio spirito innovativo. E infine passiamo al segno dei pesci. Questo pesci può percepire il sole in gemelli come un periodo di riflessione interiore e di intuizione. Potrebbe sentirsi più connessa con il proprio mondo emotivo e anche desiderosa di esplorare il significato più profondo delle proprie esperienze. Tutte queste energie che noi potremmo percepire nel momento in cui il sole va a entrare nel segno dei gemelli in realtà può esserci utile anche per comprendere come vivere questa energia e creare un impatto nuovo per la nostra vita personale ma anche per il nostro mondo imprenditoriale. Fatemi sapere come vi sembra questa panoramica cosmica e se queste informazioni che vi ho trasmesso vi suonano. Intanto ovviamente vi do appuntamento come sempre a domani dove preparerò per voi un'attivazione energetica che ci consenta un'apertura del nostro canale di luce per connetterci alle opportunità che siamo pronte a chiedere all'universo. E vi aspetto inoltre per lunedì 27 maggio dove inizieremo ufficialmente il corso gratuito di Inner Power. Se desiderate iscrivervi trovate il link qui nella descrizione oppure vi basterà andare sul mio sito jessicapellegrino.com slash inner trattino manpower. Mi raccomando vi aspetto numerose. Grazie intanto per essere state qui con me, un bacio grande e ci vediamo domani. Ciao!